Lavori in via Rubicone, alle nostre spalle si sta lavorando per il rifacimento del marciapiede. Consigliere Pignoli, lei ha avuto delle chiamate da parte di alcuni residenti che lamentano il fatto che si sta lavorando su entrambi i lati della strada con problematiche di parcheggio per i residenti qui di via Rubicone. Non solo di parcheggio, sono stato definito ormai dalla popolazione di Pescara e quella periferica, il sindaco della periferia, per cui dove in periferia vi è in difficoltà io mi muovo. Come dicevate voi c'è un problema che voglio puntualizzare in maniera rigorosa, l'organizzazione non prescinde da questa amministrazione e da imputare ovviamente alla passata amministrazione, che i lavori sono stati appaltati dalla passata amministrazione. I tecnici sono stati individuati dalla passata amministrazione, per cui nulla questo sulla attuale amministrazione. Che cosa sta accadendo? Come potete vedere dalle immagini che avete ben ripreso, si sta lavorando in ambe e due marciapiedi. Quando in regola d'arte, nelle pubbliche amministrazioni, per quanto riguarda i lavori definiti ordinarie all'interno ovviamente della sede stradale pubblica, si dovrebbe prima lavorare in un lato per lasciare libero lo spazio per far transitare diversamente abili sull'altro marciapiede, bambini col carrozzini, anche per il parcheggio delle automobili. Invece qui, come vedete, si sta rompendo in entrambi i lati. Adesso il cantiere ovviamente non è transitabile per la cittadinanza, come vedete è chiuso, però è riservato ovviamente alla pedonalizzazione dei soltanto residenti. Che cosa accade la sera? La sera il cantiere viene aperto, quindi non viene sigillato, non c'è l'interruzione del tratto di strada e qui diventa praticamente un transito costante di macchine insieme a pedoni che transitano ugualmente in mezzo alla strada con rischio di l'incomunità pubblica, soprattutto per i diversamente abili e per ovviamente i bambini che sono in carrozzina. Per cui che cosa farò? Tornato adesso in comune scriverò immediatamente al Presidente della Commissione dei Lavori Pubblici, che farò convocare un giardemente una Commissione dei Lavori Pubblici, un sopralluogo ovviamente sul cantiere alla presenza del nuovo Assessore dei Lavori Pubblici al dirigente per cercare di affrontare e sistemare definitivamente questo problema, perché alle soglie del 2020 anche un bambino capirebbe che questo non è un modo giusto per fare i lavori.